Un cordiale saluto, ben trovati da Tu per Tu, la trasmissione di Trentino TV realizzata in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Siamo con il consigliere provinciale del gruppo misto Ugo Rossi, ben arrivato consigliere. Allora parliamo di Orso, è il tema di grande attualità di queste settimane dopo la tragedia di Caldès. Nei giorni scorsi consigliere lei ha indetto una conferenza stampa per spiegare quali sono gli spazi di manovra che la provincia, il presidente della provincia ha per gestire appunto l'Orso e lei ha detto proprio in conferenza stampa che la provincia sicuramente può essere più interventista. Sì, in estrema sintesi dividiamo la cosa in due periodi. Allora fino alla fine del 2018 per toccare un Orso, cioè per catturarlo, per abbatterlo o anche per fare operazioni di dissuasione, pensiamo per esempio ai proiettili di gomma o quant'altro, la competenza, quindi la possibilità di prendere queste decisioni era in capo al Ministro dell'Ambiente, perché così prevede la direttiva europea. Durante questo periodo però il presidente della provincia ha il potere, qualora ci sia un pericolo si dice imminente, quindi attuale, può disporre dei poteri di pubblica sicurezza come quelli che ho dovuto usare io per un'orsa pericolosa, per abbattere anche un orso per evitare che possa fare altre aggressioni come era accaduto ai miei tempi. Naturalmente questa decisione è soggetta al giudizio del giudice amministrativo, nel mio caso i giudici amministrativi, siccome le ordinanze erano fatte bene, hanno deciso che si poteva procedere. Dal luglio del 2018 esiste una legge che è stata fatta da me e dall'assessore della piccola nella ultima legislatura che ha trasferito al presidente della provincia il potere del Ministro di poter agire direttamente sugli orsi, compresi quelli pericolosi. Questa legge è stata impugnata dall'allora governo dove c'era dentro anche quelli della Lega, Salvini per esempio, la Ministra Stefani, la Corte Costituzionale l'ha riconosciuta valida nel settembre del 2019 e poteva essere utilizzata dalla provincia per fare che cosa? Per fare due cose. Uno per fare un piano di gestione che prevedesse per iscritto la riduzione del numero degli orsi. Il presidente Fugatti dopo l'evento tragico sta chiedendo la riduzione del numero degli orsi, ma si dimentica che lui dal settembre del 2019, per decisione della Corte Costituzionale, avrebbe potuto farlo lui il piano. Invece non l'ha scritto da nessuna parte della riduzione degli orsi. Si sta muovendo solo dopo il tragico evento. E questo è un problema perché evidentemente se si fosse mosso avremmo potuto gestire con grande anticipo anche tutte le problematicità che ci sono evidentemente nell'applicare delle normative. In Italia questa non è certo colpa del presidente Fugatti, che però anch'io ho avuto queste difficoltà. Io non avevo lo strumento della legge, ciò nonostante nel caso dell'orsa pericolosa KJ2 ho disposto l'ordine di abbattimento ed è stato eseguito. Allora si può agire, bisogna sapere agire con competenza e anche però con credibilità. Mi lasci dire che il presidente Fugatti questa credibilità è un po' scaduta. Perché? Perché quando era l'opposizione prendeva in giro i forestali dicendo che erano tutte invenzioni. Criticava noi perché ci è successo che un'orsa è morta per un'anestesia, ha chiesto addirittura le mie dimissioni. Ha sempre detto che gli orsi bisognava eliminarli. È stato eletto presidente, sono passati quattro anni, gli orsi mi pare che siano aumentati. Allora ci vuole anche un po' di prudenza e di credibilità. Detto questo e chiudo. Oggi tutti dobbiamo nuovamente riprendere tutte le carte che io ho mandato in provincia al Ministero negli anni e scrivere come provincia un piano di gestione degli orsi che preveda anche la riduzione e farcelo autorizzare dall'Unione Europea perché la direttiva è europea e la legge dice che la provincia di Trento la può applicare direttamente. Lasciamo l'argomento orso che è un argomento sempre molto spinoso, lo sappiamo e l'abbiamo visto in queste settimane e parliamo di un altro argomento di attualità che è la questione del personale soprattutto adesso che ci avviamo verso la stagione estiva. Ma non soltanto per il settore turistico, ci sono tanti altri settori che ricercano personale. Sta diventando quasi un'emergenza, consigliere. Sì, assolutamente. Lei ha toccato un tema di grandissima attualità. Basta parlare con tutte le nostre imprese da quelle agricole agli imprenditori turistici ma anche all'impresa manifatturiera del Fondo Valle, di Rovereto e di Trento e la cosa che ti dicono è che purtroppo non riescono a trovare mano d'opera. Qualificata ma anche poco qualificata. C'è un problema enorme che deriva da due fattori essenzialmente. Il primo che, ahimè, facciamo troppi pochi figli e quindi il numero anche di trentini, di ragazzi trentini, è molto inferiore. Io sono nato negli anni Sessanta. I miei tempi nascevano in un paese di mille abitanti, nascevano almeno venti ragazzi ogni annata. Oggi sono molti di meno. E quindi già c'è un problema di numero. In più i nostri ragazzi studiano, vanno molti all'estero, il mondo è diventato piccolo. Allora io penso che questa emergenza debba essere affrontata anche però cercando di supplire a quello che lo Stato italiano non ha mai fatto. Cosa hanno fatto all'estero? In Germania, in Francia, in tutta Europa. Hanno fatto delle politiche di immigrazione. Cioè ci sono portate in casa persone di altri Stati, naturalmente garantendo che cosa? Un lavoro, garantendo una casa, garantendo un inserimento sociale, l'apprendimento della lingua, ma anche mettendo delle regole che prevedono che chi naturalmente si rende responsabile di azioni, diciamo così, non consone alle nostre regole, possa anche essere mandato via. Ecco, tutto questo lo Stato italiano con i governi bianchi, rossi, verdi e gialli, non l'ha mai fatto. Allora io penso che la provincia autonoma di Trento dovrebbe chiedere allo Stato una norma di attuazione con cui provare a fare da sola quest'operazione e portarci qui, io credo che le imprese siano d'accordo, portarci qui persone magari attivando in questa ricerca chi? Le famiglie di residenti stranieri in Trentino che sono qui da tanti anni, chiedendo se hanno parenti, se hanno amici, se hanno conoscenti, costruendo una rete e portando qui persone che ci possono aiutare a mandare avanti la nostra economia. Io credo che questo sia un modo intelligente di far funzionare l'autonomia perché altrimenti nell'arco di qualche anno le nostre imprese saranno davvero costrette ad arrangiarsi da sole a fare quest'operazione. È tutto per questa puntata di A Tu Per Tu, grazie al consigliere del gruppo misto Ugo Rossi di essere stato con noi. Vi do appuntamento alla prossima puntata, ad una prossima puntata di A Tu Per Tu. Arrivederci. Grazie, arrivederci.